A GSM Verona e Bik Kazigurth di fronte sul Prato Verde dello Stadio Bentegodi nella gara di ritorno dei sedicesimi di Champions League. Si parte dal 3-1 in favore delle casacche, conseguito sette giorni prima nella lontana Shemkent, sud del Kazakistan. Mister Longega recupera Manuela Giuliano, mentre parte dalla panchina Paige Williams. La prima opportunità per il Verona giunge su calcio piazzato dalla lunga distanza con Di Criscio che sfiora il bersaglio grosso. Le gialloblue esercitano un netto predominio territoriale, ma faticano ad arrivare con azioni pericolose all'interno dell'area casacca. Il Kazigurth prova la prima conclusione su calcio piazzato al 29esimo, chiamando Talman alla deviazione. Subito dopo ci prova Giuliano, ma il suo tiro esce strozzato. Il 40esimo casacche in vantaggio in maniera roccambolesca. Il Kazigurth batte un angolo scaturito da una rimessa invertita. Il pallone calciato dalla bandierina da Gabelia assume una traiettoria beffarda, con Talman che entra in porta assieme al pallone. Le scaligere si guadagnano subito un angolo e sul traversone Martina Piemonte ci prova, chiamando la numero uno casacca alla respinta. Si va a riposo con le veronesi, immeritatamente in svantaggio. L'avvio di ripresa è molto combattuto, ma le giallo-blu non riescono a sfondare. E allora, dopo otto minuti, Longega getta nella mischia Pasini e Williams in sostituzione di Bruinenberg e Piemonte. Proprio la neoentrata Pasini fallisce l'opportunità del pareggio, non riuscendo a toccare nella porta sguarnita l'assist di Giuliano. Il pareggio le scaligere lo ottengono subito dopo. Capitano Gabbiadini viene atterrato in area. La slovacca Valentova non ha dubbi ed indica il dischetto. Ed è la stessa numero otto veronese che trasforma. Il Verona, ringalluzzito dalla rete, si riversa in avanti. E su un calcio di punizione da distanza siderale, Federica Di Criscio coglie una clamorosa traversa. Longega si gioca l'ultima carta, mandando in campo Lisa Buottin in sostituzione di Dolstra. Buona opportunità alla mezz'ora con Gabbiadini, che riceve da Giuliano, in ottima posizione, ma non riesce a coordinarsi. E la sfera termina alta. Subito dopo ci prova anche Manuela Giuliano, ma anche lei non riesce ad inquadrare la porta. Zlegnak ci mette una pezza sul pallone lunghissimo di Williams. Ormai si gioca ad una sola porta, ma le casacche non capitolano. A tempo scaduto, Melania Gabbiadini si mangia il gol della speranza, facendosi ribattere la conclusione dal portiere. Il match termina in parità e regala alle casacche una qualificazione ottenuta, capitalizzando al meglio tutte le poche opportunità guadagnate. Verona esce a testa alta dalla Champions League, con tanto rammarico per gli episodi sempre negativi che hanno caratterizzato il doppio confronto.